l'attività nemica danny vai, ce la puoi fa, danny ce la fai smettete di difendere la stanza vai ora, vai ora, vai ora, vai ora dai noi andate in 27, mandate il drone capito cazzo, eccolo madonna vivo madonna ma come fanno a resistere a sti terremoti che manda fuse digrappolo dentro il terremoto vivi tutti vivi, ne hai feriti un paio a culo hai visto i nuovi operatori vendicato? come no? zazzappa sei arriva due canadesi uno si chiama buck che c'ha il master key tipo fucile a pompa sotto canna e una ragazza che su google immagini e la ragazza che c'ha la trappola per orsi scrivi rainbow six siege operation black ice chi parla io o te però ben fatto contenitore di bioris che ho trovato ma qua mi ha messo un fila si signori, guarda che posto vendicato guarda che posto 10 secondi vi ho trovato il posto migliore del gioco 5 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento ne entra la televisore rotto raggiungete il contenitore di bioris che difendetelo no mo butto un occhio con la telecamera vedete che cazzo stanno ma sto taylor ha deciso che gli do spara in testa come vede va vendicato fermate fermate vendicato oh qua hanno rotto la cosa no no ma da questo è proprio rigottato io mo carica il grappolo pronto vieni a rompe sta mura qua per favore vendicato mi viene a rompe si la ragazza vieni a rompe sta mura qua per favore vieni a rompe sto muro sto qua che c'ho il nemico fuori vabbè ma hai colpito ma tu dove ma vaffanculo che cazzo passo io adesso che c'ho le flashbang qua trappola per orsi trappola per orsi rimane un smettete di scendere la stanza prendete la stanza e proteggete il contenitore bacca vittoria per gli attaccati ma perchè i colpi non passano attraverso i buchi che si fanno tanto per cambiare tanto per cambiare ancora mo si chiama book che è un libro bacca ha detto book bacca fa il fucile a pompa il master key di black ops 1 fucile a pompa sottoganna non lo so non ho visto eh niente di che poi magari da i buchi nei muri che non è da vicino magari shotta boh ci manca una persona squadra eh eh vabbè mo si mo è partita ghimettus ciao pulsi signori pulsi losso explosion Ma quale FIFA Tu forse non hai capito quel gioco puzza Difendete le bombe Corazze 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 Deficiente Ricchione di merda Frocio Andicappato No non è lui che è quel frocio di idiota Del cazzo che la Ecco guarda guarda non le mette guarda guarda Deficiente Ma si no no Cliccate tutto tranne che corazze Ma gli sparo da qua Madonna Dal soffitto Ma dal soffitto l'ho preso Fai espellilo Espellilo perchè se no al prossimo round mi ammazza No Vendicato Te canc... Te canc... No fa merda Te cancelo dei amici Entrano da qua eh Spara contro la via Ciao Ma è tutto Barricata pronta Nitro piazzata! Cambio caricatore! Tango trovato! C'è quattro pronto! Un solo difensore rimasto! Ah, è sopra! Lo vado a prendere! La tua posizione è stata compromessa! Vittoria alla difesa! Nemici eliminati! Ma mo' ammazza quello stronzo la? Che non lo sai? Dai! Io scappo! Io scappo! Voglio una classe veloce! Fammi scappare! Così lo ammazzo io! Affanculo che meno io! Fammi dire che ha preso lui! Chi era? Taylor! Che di merda! Vote spelli! Vote spelli! Vote spelli! Diggli vote spelli! Diggli vote spelli dopo! Ok! Vote spelli! Vote spelli! Vote spelli! Invita pure! Vote spelli! Vote spelli! Direttissimo! Il drone alleato ha trovato una bomba! Che invito io? Chi ce la tra gli amici? No! Ma sto un video! Sto andando sul profilo tuo! Io tu cazzo stanca! Livello 6! Stazza Pavolante! Oh! Mostro! Ancora 5 secondi! Pronto! Disinnescatore è stato recuperato! Procedere e disinnescare la bomba! Emico individuato! Emico individuato! Pronto! Pronto! Non lo può ammazzare! Non ci credo! Guarda! 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 Mi sta a guardare! Bastardo! Ma io sto con le flashbang! Forco due! Vieni con me! 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 No! Taylor mi ammazza! Strascappa! Vieni con me! 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 Muovi il culo! Porta qua! No! Scappa! Stronzo! Scappa! No! Mi sta a seguire! Bastardo! Mi ha raggiunto! Taylor! Porca! Taylor! No! Ma che cazzo è deficiente o cosa? Ma rompi qua! Ho detto! Oh! Troro un quarto! Rimane un nemico! Vai! Si difende! Si pulsa signori! Si pulsa! Si pulsa! Quarantacinque! Quarantacinque! Perché quarantacinque! Quarantacinque! Mu' ammazza! Ti scorreggia! Ti scorreggia! Vediamo se mu' ammazza! Madonna! Madonna! La squadra ha trovato una bomba! No! No! Lascialo! Se no mette i corazzi infatti su questo giro! Ah! No! Ti sparo io da qua sopra eh! Eh! Ah! Ecco! Eh! Qua sopra! Vedi che ti fa sto a mettere a voto eh! Eh! Ecco! Arrivo un attimo! Andiamo a mangiare! Sbrigassero arrivassi i nemici! Vado a fa' spawn kill così se levamo! Fa' spawn kill così non vado subito a mangiare va! Do stanno? Vai! Sponate qua! Bastardi! PERCHE URLI?! No! Quello accanto! Vabbè che cacchia stai! Dio! Se hai già dato cosa! Qua stanno! Colui che urla! No corri che da una mania! Movi te faccio full team arrivo! Oh no! lasciala subito! La tua posizione è stata compromessa! Un solo difensore rimasto! Vai, full team, via Ciao Toh, te lo regalo Divertiti Ho ucciso pure Taylor? Spero di sì Ciao, vado a mangiare Ho fatto il full team al volo e me ne sono andato Madonna, che bestia che so Ciao, vendicato Ciao